Lavori in corso presso la sede istituzionale in corso Vittorio Emanuele della sentenza a cura dell'eceto dei macellai. Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno preso il via lo scorso luglio e termineranno entro 15 giorni quando il dodicesimo sacro gruppo della processione dei misteri farà rientro presso la chiesa delle anime sante del purgatorio. I lavori sono a cura della ditta parteno per restauri di Elena Vetere. I lavori di manutenzione straordinaria stanno terminando. In effetti è stato un lavoro laborioso che ci ha tenuti impegnati da fine luglio fino ad oggi. Ormai mancano gli ultimi 15 giorni per terminare i lavori e per poter ricollocare le statue sulla vara. È un lavoro attento, preciso, quindi impegna tantissimo tempo. Si è intervenuto ovviamente nella rimozione delle vernici alterate perché ricordiamo che questo gruppo fino al 1994 era completamente quasi monocromatico, scuro. Quindi allora, grazie ai fondi dell'assessorato regionale, fu restaurato questo insieme al gruppo dell'ascesa a Calvario, dove furono rimosse le varie stratificazioni. Quindi parliamo di una vernice che ha 30 anni. Purtroppo i materiali si alterano e quindi avevamo una vernice che conferiva un aspetto un po' grigiastro. Perché come vediamo, questa pellicola pittoria è una pellicola pittorica nel pieno barocco, anzi possiamo parlare di Rococo, dove gli incarnati sono molto vivaci, molto variopinti. Abbiamo queste gote così rosse e questi incarnati così pallidi. Quindi questa vernice appiattiva un po' quello che era la cromia originale. Avevamo delle strutture come il ginocchio destro del soldato o anche le gambe di Pilato che erano completamente dislocate, cioè erano disconnesse tra di loro. Si è intervenuti ovviamente con un consolidamento strutturale. Poi infine ovviamente si è proceduto con la parte estetica che è quella della reintegrazione pittoria. Noi prevediamo la chiusura dei lavori intorno a fine febbraio. La consegna era prevista il 31 gennaio e quindi uno slittamento di 20-25 giorni. Bisogna ringraziare i membri dell'associazione perché comunque si adoperano tutto l'anno non solo per la processione ma anche per la conservazione che è quella all'opera d'arte. Hanno avuto la lungimiranza di percepire che vi era qualche piccolo problema sia dal punto di vista statico ma anche questo aspetto della vernice ossidata di cui abbiamo parlato poc'anzi. E quindi è da ringraziare per l'attenzione perché dobbiamo dire la verità da 30 anni a questa parte tutte le maestranze hanno maturato questa coscienza nel rispetto dell'opera d'arte. Questo lavoro è stato un lavoro sicuramente di sinergia e dobbiamo dire grazie alla sovrintendenza di Trapani, nella persona del dottor Bartolomeo Figuccio che da 30 anni si è preso in carico questo grande impegno e grazie ai finanziamenti poi è stata restaurata tutta la collezione. Dobbiamo dire grazie all'intera unione maestranze e a tutti i consoli per fidarsi di noi.